Buono il palleggio, prova a girarsi, non c'è fallo, De Ketelar, Tonali, Krunic, in buca per Giroud in area, Giroud, palla sulla traversa ma ha toccato Meret, determinante, Meret sul tentativo di Olivier Giroud. Stavolta va Ben Nasser, sul secondo palo, colpo di testa di Krunic, Meret ancora in angolo. Gelinski, lo sguardo in area, disegna il cross per Politano, Megnan, grande idea, va cercare alle spalle di Theo Hernandez il movimento di Politano. Spida Dest, Kvarazzelia, dribbling in area, è passato Kvarazzelia. Onfield review, questa è l'immagine che fa chiarezza, il pallone non lo sposta Dest. Ha visto Mariani, calcio di rigore per il Napoli. Va Politano, Megnan intuisce ma non basta come ad Ibrox, Politano per il vantaggio del Napoli su calcio di rigore. Col brivido Politano perché Megnan ha intuito il lato ma non è bastato per evitare l'1-0. De Chieta e Larra, ha visto Theo Hernandez, palla in area, Theo Hernandez dietro, dove c'è Olivier Giroud. Il Milan la bilancia con Giroud, sempre lui, nei momenti pesanti, nei momenti decisivi, c'è Giroud. Di Lorenzo, sguardo in area, palla che arriva, la controlla Simeone, cerca spazio, Simeone stretta ad uscire, poi allarga su Mario Rui. Ecco il cross, Simeone l'ha costruita, l'azione del 2-1, l'attacco in area di rigore sul cross di Mario Rui. Colpo di testa perfetto e il Napoli è di nuovo in vantaggio. Movimento di Adli, va da solo Theo Hernandez, palla con il tacco e la traversa clamorosa di Calulu. Milan vicinissimo, al 2-2, il Napoli passa a San Siro, vince 2-1, aggancia l'Atalanta in testa alla classifica di Serie A Team. Grazie.